...dall'Atala quando l'Atala abbandonò il ciclismo attivo e passato all'Ital Modifica Navigare, poi alla Naviglare Brustome e ha vinto il Gran Premio di Prato, campionato italiano e il Gran Premio di Camaiore. Praticamente ha avuto due direttori sportivi, Franco Cribiori e Bruno Reverberi, ha saputo ripagare oggi Bruno Reverberi, riconfermandosi campione d'Italia, ultimo chilometro, ring angolo rosso per Massimo Podenzana, vero dominatore di questo campionato italiano, sei d'accordo? L'abbiamo già detto anche prima, dominatore perché oltre che è vero, ecco che sta salutando ancora i suoi amici, alza le braccia. Ed ecco che comincia ad alzarsi, incomincia ad alzarsi Massimo Podenzana, ormai il margine di vantaggio da lui è ottenuto, è tale da poter prolungare il getto di gioia, risponde, risponde ancora, si alza, veramente bellissimo. Massimo Podenzana ora può esprimere tutta la sua gioia, meritatissima perché è stato in fuga praticamente dalle fasi centrali, poi ha staccato tutti ed ora per il secondo anno consecutivo Massimo Podenzana è campionato italiano. Allora gliela farà indossare ancora una volta, ecco qua Massimo Podenzana, campione d'Italia, ecco lo sprint per il secondo posto, sulla destra c'è Casagrande, Casagrande è in testa e Casagrande conquista il posto all'onore, il secondo Casagrande.